Ringrazio di cuore Giorgio Terziani per l'audacia che mostra oltre che il grande cuore nel suo lavoro. Ringrazio chi mi ha dato modo di conoscere, Giorgio Terziani, dottor Giorgio Pagni, direttore sanitario del poliambulatorio Sinergia di Bologna, presso il quale opero. Ringrazio tutti voi e i miei allievi, i più dinamici che sono venuti a raggiungermi da tutta Italia. Per chi non mi conosce, sono un medico, sono specialista in medicina interna, fitoterapeuta, omeopata, sono anche un medico ayurvedico e in realtà sono anche un medico, tra virgolette, artista. Per cui la mia presentazione avrà questa modalità di approccio integrato nei confronti del paziente. Provengo dalla ricerca di base dell'Istituto Rodolfo Amprino e mi sono occupata di neuroimmuno-istochimica, ho lasciato la ricerca di base per dedicarmi al paziente. E quindi vi comunico l'esperienza, la mia personale, del contatto col paziente. Epigenetica, nutrizione, nutraceutica, gestione del paziente, sono le parole chiavi. Epigenetica, questa scienza abbastanza recente, che ci pone una condizione potenziale di aumentare il nostro grado di libertà. Potenziale, perché l'epigenetica, esaminando le interazioni con il nostro materiale genico di tantissimi fattori, tra cui quelli ambientali, ma anche quelli ambientali non soltanto esterni al nostro organismo, ma anche interni, come per esempio le caratteristiche dei bioti, che non sono soltanto microbioti, come sappiamo benissimo, ci apre sicuramente la conoscenza, la consapevolezza di ampi spazi di interazione del nostro materiale genico e quindi anche, in senso ovviamente terapeutico, la possibilità di intervenire, di ottimizzare. Il punto di vista del clinico è ovviamente trovarsi di fronte ad un campo unificato. Quando il clinico vede nell'ambulatorio, nello studio, il paziente, ma anche in un reparto, si trova di fronte a un campo unificato, in effetti ad un complesso labirinto e quindi diventa necessario trovare la giusta porta di ingresso e di comunicazione. Nell'ambito appunto del fabbisogno nutrizionale, sicuramente una degli approcci, delle modalità di intervento e di richieste da parte anche del paziente, gira intorno al grande capitolo sia della malnutrizione qualitativa che della malnutrizione quantitativa. Da noi soprattutto in eccesso per alcuni aspetti, ma prevalentemente osserviamo una malnutrizione qualitativa, quindi alimenti non più coerenti, non più in grado di soddisfare completamente quella che è la nostra necessità in biodisponibilità cellulare. E quindi nell'approccio sia dell'alimentazione che nutraceutico, il clinico si pone il dubbio di come in questo labirinto poter entrare e comprendere dov'è il vero leone. Vi ho portato delle foto della mia terra di origine, in particolare dell'isola dei mammiferi, di uno zoo safari di Fasano, perché molte volte in effetti la nostra vita è un po' come quella degli animali tenuti in gabbia o così collocati, anche se molto ben trattati, in uno zoo safari, o altre volte la nostra vita è un po' come la vita dei burattini o dei soggetti, oggetti del film Essere John Malkovich. Il clinico ha di fronte un essere con più aspetti, con più frequenze, sono frequenze energetiche, sono frequenze del calore, dell'aria, sono vibrazioni, noi siamo anche vibrazione, noi, ci dice la biofisica, siamo estremamente complessi. E quindi la domanda che si pone il clinico è come poter supportare una impostazione dal punto di vista nutraceutico, nutrizionale, con gli integratori alimentari, su come appunto poter entrare nel programma evolutivo del paziente e non involutivo, che ovviamente porta allo squilibrio della malattia, ma anche come poter far sì che in questo programma realmente quello che noi prescriveremo dal punto di vista nutrizionale e così via possa veramente raggiungere il bersaglio. E quindi si pone il dubbio sul nutraceutico. Quali ostacoli incontrerà durante l'assorbimento? Il self-food ha un assorbimento già a livello perlinguale, quindi di ostacoli ne incontra sicuramente molto di meno, per cui è già un grosso vantaggio poter realizzare un target di raggiungimento che possa ovviamente velocemente e rapidamente bypassare quelli che possono essere impedimenti e raggiungere l'obiettivo. Quindi già si pone la disponibilità di self-food in grado di andare a compensare alcuni fabbisogni. Il clinico vuole ovviamente entrare nel percorso metabolico del paziente, ma il metabolismo non è soltanto biofisica, non è soltanto chimica, non è soltanto biochimica. Il metabolismo è anche altro. Quante volte i nostri pazienti ci raccontano di problemi di digestione che non sono presenti in condizioni di serenità? Vacanze, vanno via tutti i problemi digestivi e molte volte anche alcune intolleranze di tipo funzionale non sono più presenti. Cos'è accaduto? Cos'è essere donna? Cos'è essere bambino, bambina? Cos'è essere uomo? È qualcosa ovviamente di molto complesso e quindi le figure del medico che integrano i vari livelli sicuramente sono quelle che si trovano più direttamente in un rapporto empatico di comunicazione nella porta d'ingresso del tempio umano. Quindi qual è il punto di vista dell'osservazione? Il punto di vista dell'osservazione dal punto di vista epigenetico è ai nostri tempi abbiamo una conoscenza una consapevolezza una coscienza che tutte le nuove scoperte ovviamente nell'ambito scientifico consolidano e quindi supportano in modo tale da poter porci in una condizione di sostenere in senso evolutivo tutto ciò che cominciamo a riconoscere in questa operazione di risveglio che noi stiamo realizzando in senso epigenetico. Quindi co-creare attivare un percorso che non sia soltanto di riequilibrio ma di spingerci oltre rigirare sulla spirale procedere ampliare questa è una delle foto dell'isola dei mammiferi che appunto si trova nello zoo safari dove c'è anche una scimmetta che si chiama Caterina come me il mondo animale mi è molto vicino le scimmie sono animali intelligentissimi ma le scimmie piace molto la musica jazz quindi hanno il senso del ritmo sappiamo che la musica agisce sulle nostre frequenze sappiamo che la musica può essere riportata e registrata su dei supporti sappiamo che le nostre vibrazioni risuonano la mia voce risuona nella sala e le vostre vibrazioni risuonano nella sala e anche verso di me e questo è la medico artista della comunicazione ancora l'isola dei famosi ci riporta all'acqua domani ritorno alla mia carissima Bari spero che il tempo mi permetterà ancora di poter un po' godere dell'aria del mare bene epigenetica rivatalizzare le cellule non soltanto riequilibrare il cell food ci consente con una biodisponibilità ottimale quindi già per assorbimento perlinguale ma anche nei tratti del tubo digerente un assorbimento molto rapido di poter andare a raggiungere l'obiettivo è di rivitalizzare la cellula da dove partiamo in un approccio metabolico dall'assorbimento la funzione sicuramente digestiva ancora prima dell'intestino è centrale abbiamo puntato sull'intestino ma l'intestino segue a tutta una parte del tubo digerente la cavità orale fondamentale anche nell'ambito del sistema immunitario è lo stomaco grandissimo organo fondamentale nello stomaco c'è il nostro fuoco digestivo la cavità dello stomaco è la struttura del nostro organismo che contiene durante la digestione maggior quantitativo di vitamina C non servono pubblicazioni è fisiologia basta prendere qualsiasi trattato di fisiologia è uno stomaco che non può espletare la sua funzione quanti casi noi osserviamo l'esame istologico di gastrite atrofica carica sicuramente l'intestino da dove si parte nell'esame dall'inizio dalla bocca quindi il nostro il nostro fine è procedere in questi spazi del metabolismo con una modalità interattiva qual è la piattaforma di esame del paziente uno screening un pannello di esami di laboratorio quale pannello di esami di laboratorio ottimizziamo quindi ovviamente il dialogo la raccolta dei dati quindi l'anamnesi l'esame obiettivo la valutazione diagnostica di laboratorio la valutazione strumentale benissimo a noi servono anche funzioni dinamiche a noi serve anche vedere il paziente nella sua dinamicità a noi serve attualmente grazie a tutti i dati forniti dalla ricerca comprendere qual è la biodisponibilità biofisica e biochimica io somministro un acido folico doso nel siero l'acido folico a me in metabolomica sicuramente risulta un dato interessante ma non completo mi chiedo effettivamente la distribuzione dell'acido folico mi chiedo effettivamente laddove funzionerà nella struttura cellulare cosa effettivamente è attivo somministro un minerale somministro del calcio o prescrivo un'alimentazione a base di semi oleaginosi o di frutta che dovrebbero contenere dei quantitativi di minerali ma questo non mi dà sicurezza di aver raggiunto l'obiettivo non mi dà sicurezza aver valutato una tabella di composizione quantitativa ed energetica dell'alimento perché nell'interazione dinamica ovviamente tutto scaturisce da quello che il mio organismo riconosce e recepisce e ci sono sicuramente dei test interessanti ci sono dei test come mineralogramma di cui abbiamo visto anche qualche immagine precedentemente che ci danno delle indicazioni hanno bisogno di tempi di attesa per i risultati ma sicuramente insieme ad altre indagini sul siero ci dicono cosa accade a livello cellulare tessutale quindi qual è la biodisponibilità dinamica più attiva bene il campo unificato ci porta dal punto di vista delle nuove conoscenze dell'epigenetica che sicuramente si espanderanno e sicuramente ci forneranno una marea di nozioni oltre che di informazione quando viviamo in un mondo informato dove la parola informazione e la parola nozione e la parola conoscenza hanno sicuramente dei valori diversi e quindi la possibilità di un supporto interessante come il self-food ad altissima biorisponibilità ad azioni di rivitalizzazione veramente delle funzioni cellulari non può essere soltanto valutato da un punto di vista dello stress radicalico dove stress radicalico oggi come oggi sicuramente possiamo inserire quelli già ben noti dello stress ossidativo dello stress nitrossativo dello stress etiolico e dello stress carbonilico che possiamo valutare già anche con degli esami di laboratorio ogni volta che io do solo omocisteina posso avere un'idea di quello che è lo stress etiolico ma anche del possibile stress nitrossativo ogni volta che io do solo nemoglobina glicata nella clinica io non ho soltanto un'idea dell'andamento metabolico grossomodo negli ultimi 90 giorni della condizione della glicemia ho un'idea di cosa sta accadendo nello stress carbonilico quindi sicuramente ha un obiettivo estremamente interessante ma laddove riattiva il meteocondolo laddove riattiva alla cellula ovviamente una preparazione come il soul food ha degli obiettivi che poi riscontriamo nella pratica clinica di riattivazione dei sistemi cellulari quindi di riattivazione delle varie funzioni spesso uno dei dati che riscontrano i pazienti è l'aumento della diuresi nei primi 15-20 giorni osservano questa spinta che ovviamente questa ripresa metabolica questa eliminazione di acqua metabolica che ovviamente l'organismo dà come segnale di riattivazione bene dal punto di vista epigenetico abbiamo adesso anche la possibilità sono entrate a disposizione anche delle nuove modalità di tipo biofisico di valutazione dinamica in vivo che in pochi minuti in 12-15 minuti ci danno già un'idea quindi ci avviano verso quello che è sicuramente poi un processo di validazione con una piattaforma che ovviamente necessita di esami strumentali di laboratori oltre che della visita clinica del paziente ma che ci apre sicuramente all'osservazione e ci apre sicuramente ad una nostra dinamica diversa nei confronti del paziente e della salute cosa apre quali porte apre questa modalità digitale ad una valutazione nei confronti a livello cellulare a livello tessutale da un punto di vista funzionale di quello che accade a livello di sensibilità alimentare non soltanto quindi dati che noi abbiamo ottenuto che possiamo ottenere con metodiche diagnostiche di allergia o tolleranza o meno non c'è soltanto una reazione di incompatibilità con un meccanismo allergico un meccanismo di intolleranza c'è altro che sicuramente avremo modo negli anni che seguiranno di comprendere a volte l'alimento è semplicemente alterato nella sua carica elettronica l'università di Padova l'università di Perugia e il CNR hanno elaborato dei dati estremamente interessanti sui frattali diversi da piante originali e da piante da coltivazione non originale pur avendo la stessa concentrazione di principi attivi di nutraceutici i frattali sono completamente diversi e quindi domanda potrebbe essere a volte una reazione avversa ad un alimento laddove è già stata esclusa quella d'allergia laddove è stata esclusa anche quella d'intoleranza potrebbe essere una reazione ad un alimento che ha modificato i suoi frattali ovvero il nostro organismo ha una memoria cellulare ha una memoria che è proprio nella sua struttura profonda diciamo proprio nell'aggregazione molecolare elettronica la teoria dei frattali che è fisica sembrerebbe darci questa conferma quindi questo è uno spazio che si apre sicuramente di ricerca estremamente interessante e così per vitamine e minerali e amminoacidi e grassi essenziali cosa in effetti arriva sulla nostra cellula equilibrio degli acidi grassi essenziali imposto una corretta alimentazione e se ho un deficit di lipasi e se ho un deficit di fosfolipasi e se ho un'alterata barriera intestinale e se ho uno stato infiammatorio cosa accade lungo il percorso metabolico quindi la medicina interna pone in questa complessa valutazione in questo complesso modo di entrare nella metabolomica dove tutti questi spazi devono essere interattivi ma dove ancora abbiamo altri fattori più recenti nell'osservazione come appunto l'interferenza ambientale quindi l'interferenza da parte di radiazioni sostanze tossiche cataboliti del metabolismo industriale o di sostanze di sintesi che ovviamente ricalcando quello che è il percorso metabolico della natura molte volte abbiamo creato purtroppo senza osservare quello che poteva essere il drenaggio la depurazione noi parliamo di drenaggio e depurazione nel nostro organismo ma la natura nostra madre terra si pone attualmente un sovraccarico nella necessità di dover drenare e detossinare siamo pieni di sostanze che ovviamente parzialmente sembrano essere nuove per madre natura che deve ricollecarsi e quindi anche ovviamente possibilità di interferenze elettromagnetiche quindi anche carichi ma non tutti manifestiamo una stessa sensibilità a tossici e sostanze elettromagnetiche lo studio del polimorfismo genico che possiamo eseguire ma anche lo studio dei bioti ma anche lo studio dell'alimentazione che può per esempio grazie alla presenza o meno di spezie cambiare completamente la nostra posizione rispetto a queste problematiche sia in senso ovviamente di equilibrio o di squilibrio ci sono delle spezie che nei loro principi attivi utili in alcune condizioni possono creare interferenze su meccanismi di trasporto e quindi quanto tempo abbiamo noi per chiedere al nostro paziente come vive cosa pensa come mangia quanto tempo abbiamo di leggere i diari alimentari seppur decidiamo di chiedere al paziente di elaborarci un diario alimentare è tutto in dinamica è tutto in fieri abbiamo sempre meno disponibilità perché il ritmo si è velocizzato in realtà la fisica ci dice che il ritmo terrestre è cambiato anche il giorno in effetti dura molto di meno bene antiossidanti anche l'emoglobina è un antiossidante anche la bilirubina è un antiossidante anche l'acido urico è un antiossidante anche gli estrogeni sono antiossidanti quindi anche l'acqua è un antiossidante il primo antiossidante è l'acqua che ovviamente self food potenzia nella sua attività quindi mettere tutti questi vari ambiti tutti questi settori anche la traccia della resistenza resistenza ovviamente da molecole che possono essere di natura virali o parte tracce di virus batterica micotica ma attualmente sappiamo molto bene che col nostro materiale genico con le nostre strutture fisiologiche interagisce anche il microRNA il nostro biota è flessibile il nostro metabolismo è flessibile l'epigenetica ci parla di flessibilità quindi sappiamo che lo zenzero che è un'altra spezia interessante per esempio ha un'azione di tipo epigenetico sul nostro sistema perché attiva con le sue fibre alcune linee del biota che producono microRNA di riequilibrio e quindi microRNA antinfiammatori che hanno nel loro destino finale quello di attivare le risposte antinfiammatorie quindi quando parliamo di epigenetica di salute di equilibrio di riequilibrio alcalino altro tutto deve essere posto in relazione per cui l'impatto con queste nuove valutazioni con queste nuove metodiche che sono giunte che sicuramente verranno nel tempo perfezionate e dettagliate ci riportano a che cosa in realtà ad un approccio che è antico il medico era anche sacerdote anche in medicina cinese c'era il medico integrato e c'era il medico scalzo il tecnico recuperare ovviamente tutti quanti i nostri ambiti in base anche alla nostra via alla nostra specializzazione alla nostra competenza ma l'epigenetica questo ci sta indicando osserviamo l'ambiente ho finito proteggiamo l'ambiente esterno proteggiamo l'ambiente interno dialoghiamo con il nostro corpo dialoghiamo con i nostri cibi selezioniamo alimenti originari nutraceutici integratori alimentari che veramente possano essere naturali anche nella loro percorso produttivo ma anche che possano assicurarci realmente la biodisponibilità molecolare alla quale noi ovviamente attendiamo con la nostra attività buon lavoro anche per tutto il resto della giornata e spero di rivedervi presto grazie 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 grazie